Stiamo per iniziare la riunione che facciamo a San Macuto in cui discutiamo dei collegi. Mentre si è tenuta con Crosetto e Rambelli per Fratelli d'Italia, già si è conclusa la prima riunione sul programma. Quindi se volete sapere come è andata dovete chiedere a loro. Se volete sapere come andrà chiedete a noi quella dei collegi. Come andrà? Bene. Quella dei collegi inizia adesso a San Macuto. Sì, grazie. Troppi no sul programma. Non ho capito niente. Ma non siamo noi che ci siamo occupati del programma, non vogliamo rubare il lavoro agli altri. Però se vi rileggete il comunicato che hanno sottoscritto Berlusconi, Meloni e Salvini, c'è già la sintesi dei punti principali del programma. Vabbè, invece per quanto riguarda le candidature si è trovata la quadra su Fontana per il resto? Su Fontana penso di sì. Per il resto stiamo cominciando. Secondo lei è competitivo? Lei che conosce bene la Lombardia? Competitivo chi? Fontana. Io non solo conosco la Lombardia, conosco bene Fontana. Anche la Gelmini è un'ottima candidata, ma Fontana è sicuramente molto competitivo. Gaspardino è un'ottima candidata, non è un'ottima candidata, non è un'ottima candidata.